Allora la comunicazione che mi è stata affidata dall'esecutivo del coordinamento ha questo titolo gli obiettivi di lotta puntini puntini e come proporli. Ora io quando avevo visto il programma inviato nella mailing list del coordinamento nazionale dei proposti ai compagni dell'esecutivo avevo visto questo tema avevo detto cavolo interessante bel tema andrò sicuramente ad ascoltare con grande interesse chi diciamo farà questa comunicazione perché sicuramente un tema seminariale come dire poi primi di agosto è arrivata dal dai compagni dell'esecutivo accanto ai titoli nominativi delle a chi veniva affidata la comunicazione ha visto il mio nome e ho visto che era stata assegnata a me non so perché il compito di farla e ovviamente molto modestamente aderisco a questa cosa però non è che sia così semplice per di più in 15 minuti come mi è stato detto quindi io ovvio che è un tema gli obiettivi di lotta puntini puntine come proporli si potrei voglio dire potevo potrei farlo in tre modi diversi il tema e non è questa se dipende come si vuole sviluppare io ho scelto una modalità può essere che che sia utile come no io ho scelto di proporre quindi avendo solo 15 minuti degli spunti dei flash soprattutto anche perché poi come proporre gli obiettivi di lotta una questione anche pratica che va articolata assunta e articolata nelle situazioni reali concrete dai circoli e poi dai compagni e le compagne dai singoli e le singole militanti nelle situazioni reali concrete nei posti lavori nei territori tra i giovani e le giovani che hanno linguaggi e modi di comunicare e forme del comunicare diversi eccetera intanto è divisa in due parti il titolo gli obiettivi di lotta e poi come proporli chiaro che c'è un nesso e un ponte tra queste due cose ma partiamo dagli obiettivi di lotta cioè quali obiettivi dobbiamo darci e che cosa occorre indicare e in particolare riferito a un'organizzazione politica una corrente politica di classe che si vuole rivoluzionaria e cioè che vuole operare per il cambiamento radicale dell'ordine esistente il superamento del modo di produzione capitalistico la questione che si pone è quindi il rapporto tra l'agire concreto e quotidiano rispetto al fine ultimo che dovremmo avere l'orizzonte che intendiamo perseguire ora su questo c'è una copiosa letteratura nella storia del movimento operaio che ci può essere credo utile ripercorrere io faccio un salto un po' indietro è il primo flash e il primo spunto e faccio un po' un salto indietro al 1891 nell'anno precedente 1890 si era tenuto il congresso della spd a dalle all'indomani della caduta di bismarck e dell'abolizione delle leggi speciali antisocialiste il partito la spd più vecchio partito di europa come sappiamo era stato riorganizzato con una struttura centrale nazionale una direzione eletta al congresso da tenersi ogni anno e un organo di stampa centrale eccetera a karl kautsky fu affidato il compito di stendere un nuovo programma chiamato poi appunto programma di erfurt rispetto al vecchio programma di gotta che era del 1875 da cui karl marx e si dissociò nella sua critica al programma di gotta che era un programma essenzialmente all'epoca lassà quindi lassagliano un programma riformista con venature nazionalistiche e anche cooperativistiche nella stesura del programma di erfurt kautsky con cazzo che collaborarono altri due dirigenti eduard e benstein e auguste bebel programma avvenne suddiviso tra un programma massimo cioè l'obiettivo finale del socialismo e un programma minimo scritto da benstein peraltro cioè le riforme su cui lottare da subito ora la dicotomia tra programma massimo e programma minimo divenne da allora la cifra della dell'azione dei partiti della seconda internazionale cioè la dicotomia tra appunto un programma minimo le battaglie per l'immediato e il programma massimo la prospettiva del socialismo di cui prevalentemente si parlava nei giorni di festa non a caso la soluzione di questa dicotomia di questa contraddizione venne affrontata poi in maniera lucida da benstein qualche anno dopo quando iniziò a scrivere alcuni articoli tra il 1897 e il 1898 sulla neuzeit la rivista teorica della spd e poi nel testo più organico presupposti del socialismo i compiti della socialdemocrazia in cui è contenuta la famosa frase per me il movimento è tutto e ciò che comunemente chiamato obiettivo finale del socialismo è nulla rosa lussemburga nel congresso di stoccarda riportò questa questa famosa frase questo motto di benstein sostenendo che il movimento in quanto tale se non tiene conto dell'obiettivo finale non è nulla per noi l'obiettivo finale tutto anche friedrich engels criticò il programma di erfurt ma qua non mi dilungo altrimenti i tempi ovviamente saltano però direi che qui ci abbiamo una prima acquisizione cioè per noi anche la più piccola lotta quotidiana la più piccola vertenza e i suoi obiettivi devono contenere ancor meglio devono tener conto dell'obiettivo finale ma come si fa facciamo adesso un altro flash andiamo al 1938 nel 1938 nel 1938 viene pubblicato viene viene diciamo approvato io non sono non ho una particolare riverenza geografica verso leone trotsky ma il doc viene approvato il documento di fondazione della quarta internazionale e mi sembra che sia un documento lo trovate ho visto anche nel banchetto della libreria qua in fondo se volete rivederlo o se non l'avete mai letto mi sembra che sia un documento che ci venga in soccorso anche oggi e che contenga ancora oggi una validità di tipo generale dove viene risolta dove si cerca di risolvere la dicotomia tra programma minimo e programma massimo con appunto il programma di transizione o degli obiettivi transitori cito testualmente una frase dal programma di transizione bisogna aiutare le masse a trovare nel processo della loro lotta quotidiana il ponte tra le rivendicazioni attuali al programma della rivoluzione socialista questo ponte deve consistere in un sistema di rivendicazioni transitorie che partano dalle condizioni attuali e dal livello di coscienza attuale di larghi strati della classe operaia la quarta internazionale non respinge no oltre e si dice la quarta internazionale non respinge le rivendicazioni del vecchio programma minimo nella misura in cui conservino tuttora una qualche vita di vitalità difende instancabilmente i diritti democratici degli operai e le loro conquiste sociali ma sviluppa questo lavoro di tutti i giorni nel quadro di una prospettiva corretta reale cioè rivoluzionaria nella misura in cui le rivendicazioni parziali minime degli operai si scontrano con le tendenze disgregative distruttrici del capitalismo decadente ciò avviene ogni istante la quarta internazionale avanza un complesso di rivendicazioni transitorie il cui senso è di essere dirette sempre più apertamente e decisamente contro le basi stesse del regime borghese ad esempio nell'elencazione degli obiettivi transitori il primo punto che viene indicato è la scala mobile dei salari contro il caro vita e la scala mobile delle ore di lavoro contro la disoccupazione mi soffermo su questo esempio per giungere fino ai problemi che abbiamo oggi ripeto quanto dice il programma di transizione su questo punto questo ponte tra programma minima e massima deve consistere in un sistema di rivendicazione transitorie che partano dalle condizioni attuali e dal livello di coscienza attuale di larghi strati della classe lavoratrice e qui cominciamo ad affrontare il ponte tra quali obiettivi e come proporli scala mobile dicevo rispetto a vent'anni fa noi siamo oggi costretti a spiegare vent'anni fa mettevamo scala mobile tutti sapevano vent'anni fa era appena stata abolita ma diciamo tutti sapevano di cosa si trattava almeno nel nostro paese noi oggi siamo costretti invece a spiegare di cosa si tratta in particolare magari non alla platea che abbiamo qui davanti che è composta soprattutto diciamo di persone più un po più avanzate con l'età ma sicuramente ai giovani di 18 20 anni ma anche trentenni dobbiamo spiegare cos'è addirittura la scala mobile dei salari non è una cosa che viene conosciuta e si sa immediatamente di cosa si parla questo ci dà la cifra ci dà la misura dell'arretramento degli a delle rapporti di forza tra le classi e degli attuali livelli di coscienza di questo ne ha già parlato nando simeone nella prima comunicazione e su questo ha scritto già lo diceva lui un piccolo saggio al nostro compagno diego giacchetti di torino dal titolo il triangolo neoliberismo post modernità fine della storia a cui rinvio anche questo lo trovate nel banchetto della libreria di torino dei compagni di torino fuori che mi sembra diciamo illuminante per ragionare sul diciamo l'attuali livelli di coscienza di classe e il perché siamo a questo punto anpassando direi anche olmo dal co pseudonimo del compagno di roma nel suo recente articolo su euro non euro lo trovate questo sul sito laddove fa riferimento alla distinzione che riprende da granci tra buon senso e senso comune naturalmente sulla scala mobile non sto sostenendo di togliere dagli obiettivi che occorre porre la scala mobile dei salari anzi personalmente utilizzavo nei 10 12 minuti che ho a disposizione nelle relazioni per il documento congressuale alternativa nell'assemblea congressuale di base a gennaio febbraio era uno dei punti che diciamo toccavo la questione ed era contenuto nel negli obiettivi indicati nel documento congressuale alternativo del sindacato un'altra cosa ma il tema appunto è come proporre gli obiettivi che partano dalle condizioni attuali dal livello di coscienza attuale di larghi strati della classe operaia quindi la questione appunto a che punto è oggi la coscienza di classe altro flash qui come spunto suggerirei oltre alle cose che diceva nanda all'inizio e i due articoli dei compagni già citati la lettura di alcuni scritti di un compagno che è morto recentemente io ho conosciuto direttamente diciamo nella sua ultima parte nella sua tardetta altri tra voi in particolari compagni di torino immagino l'abbiano conosciuto anche precedentemente parlo di vittorio riser giacchetti ne ha scritto tra l'altro sul nostro sito a maggio quando è morto ci sono due brevi articoli di riser illuminanti che qua riprendo solo come titoli per brevità ma che invito ad andarsi a vedere il primo è sulla coscienza di classe nell'attuale fase del capitalismo l'altro riflessione senile a ruota libera su crisi del capitalismo e crisi della sinistra riser poi è soprattutto riconosciuto e ricordato anche per il suo impegno sul temi dell'inchiesta quando aveva aderito a rifondazione ricordo era stato affidato il settore inchiesta tra l'altro con la redazione di un bollettino in cui campeggiava la frase di Mao Tse Tung non voglio qui adesso aprire una discussione su mao e il maoismo e la cina eccetera utilizzo solo la frase di Mao Tse Tung che era che campeggiava diciamo nel bollettino che dice chi non ha fatto l'inchiesta non ha diritto di parola ecco oltre al problema della obiettivi e del come proporli occorre che ragionare e quindi avere la possibilità e la necessità dell'inchiesta e quello credo che dobbiamo fare anche noi per ragionare su quali obiettivi e come proporli nel programma di transizione verso l'ultimo tra gli ultimi capitoli verso la fine c'è ci sono alcuni capitoli illuminanti credo ancora oggi contro l'opportunismo e il revisionismo senza principi contro il settarismo apriamo la porta ai giovani e alle donne lavoratrici sono tra gli ultimi capitoli dopo l'elencazione diciamo dei programmi degli obiettivi transitori credo che siano a questi rimando perché credo che siano ancora illuminanti per indicare oggi come orientarci ovviamente da attualizzare rispetto all'epoca nostra più in generale credo che l'attualizzazione del programma di transizione sia il compito che dobbiamo avere rispetto a quali ovviamente con l'introduzione delle nuove tematiche è ovvio penso ad esempio a quella ambientale di cui non c'è nulla nel programma del 1938 di cui parleremo domani mattina infine ultimo flash quindi vedete che resto nei tempi ultimo flash che non sviluppo ma indico solo come tematica sul come proporre gli obiettivi è quale utilizzo delle tecniche di comunicazione ora nell'epoche che ho richiamato occorrevano essenzialmente dei bravi e capaci oratori dei giornali ben fatti di carta stampata e degli strumenti sempre di carta stampata più agili più diretti più semplici come i volantini oggi pur non tralasciando queste cose ne occorrono anche altre pensiamo a tutta la comunicazione elettronica digitale anche video in particolare nel rapporto con le nuove generazioni e qui ovviamente tutto un altro tema su cui ragionare su cui agire io qui mi fermo anche perché i tempi erano questi ovviamente non ho parlato potevo ovviamente appunto sviluppare il tema anche in altri modi io ho scelto questo perché credo può essere che sia troppo come dire più metodologico che di soluzioni però credo che sia diciamo il porsi le giuste domande e il giusto metodo sia già come dire aver dato una qualche risposta ai problemi che che abbiamo quindi io ho cercato di dare degli spunti spero utili dei flash utili ai compagni e le compagnie per il dibattito e la riflessione seminariale che occorre su queste su questi temi grazie